Ricordo che Berlusconi cominciò a baciare una ragazza in bocca, poi ne baciò un'altra, poi ne baciò ancora un'altra, sempre tenendo questi anelli che poi tutte corsero a prendere una dietro l'altra, un po' spintonandosi. Con questo vestito lo strappò e rimase completamente nuda, solo con indosso le scarpe, con i diamantini brillantini argentati. Grazie a tutti.